Preghiera della sera per ringraziare Nostro Signore Gesù Cristo Fratelli e sorelle Preghiamo ti invita a supportare il canale con il tuo mi piace, l'iscrizione al canale e l'attivazione della campanellina per ricevere le notifiche delle nuove preghiere video che pubblichiamo ogni giorno. Inizia il nostro momento di preghiera quotidiana. Gesù, questa sera mi inginocchio con umiltà nel silenzio della notte per esprimere la mia gratitudine profonda. Ti ringrazio Gesù per la grazia di un nuovo giorno, per le sfide che ho superato e per le gioie che ho vissuto nella giornata di oggi. Nella quiete di questo momento di preghiera della sera rifletto sul tuo amore incondizionato, sulla tua guida costante e sulla tua presenza rassicurante. Grazie per avermi donato la forza di affrontare le prove e l'ispirazione per cercare la luce nelle tenebre. Ti prego Gesù, guidami nelle notti dell'anima quando le paure e le incertezze sembrano oscurare la mia strada. Riempi il mio cuore di speranza, fede e amore affinché possa affrontare il futuro con fiducia e speranza. Ti chiedo perdono per i miei errori e i miei peccati e ti supplico di purificare il mio spirito. Concedimi la tua misericordia e la tua grazia affinché possa essere un testimone più fedele della tua luce nel mondo. Ora, mentre il giorno si spegne e la notte si stende davanti a me ti affido i miei sogni e le mie preoccupazioni. Accogli la mia preghiera, oh Signore e proteggimi mentre riposo nel tuo amore. Amen Ti ringraziamo per aver seguito la preghiera della sera di oggi. Ti invitiamo a lasciare il tuo mi piace a questo video, iscriviti al nostro canale e attiva la campanellina delle notifiche. Fratelli e sorelle preghiamo, torna domani. Fratelli e sorelle preghiamo, torna domani. Fratelli e sorelle preghiamo, torna domani. Grazie a tutti. Grazie.